Good morning, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, come state? 7.07, giovedì 14 novembre, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano qui in diretta su Crystal Radio 96.2 FM, Dub Plus e anche app per iOS e Android e ovviamente anche il sito internet crystalradio.it Come va, come va, come va, come va? Si inizia la giornata insieme, come ci piace fare a noi oggi è giovedì, è già Giove, bene, siamo in discesa quindi finalmente si è scollinato nella giornata di ieri e oggi si è in discesa ripida e veloce speriamo, verso il weekend alle 7.08 in questo istante del mattino cosa state facendo? 331-78-53555 il nostro numero di Whatsapp pronto qui aperto davanti ai miei occhi per cogliere tutto quello che avete lì da condividere insieme a noi prima di tutto grazie come sempre per condividere la vostra routine mattutina in questo momento siamo la skin care di qualcuno, siamo il gel nei capelli di qualcun altro siamo il primo caffè del mattino, la prima sigaretta, non diciamo cos'altro possiamo essere perché insomma sono altre cose cui io non vorrei essere in quel momento con voi ma so che in realtà potrei essere con voi anche in quell'istante perché la radio arriva ovunque, l'app l'avete ovunque accesa nella vostra casa magari da uno smart speaker che manda in diffusione ovunque nei vostri ambienti mattutini, nei vostri ambienti quotidiani la musica appunto di chi? dei Clash Rock, The Casbah, 7.08, buongiorno Milano, ciao ciao i Clash con Rock The Casbah e roccheggiate anche voi in giro per la città spero di sì, com'è che diceva Good Morning Vietnam Rock Rock, All Bang Gone Gone, faceva così no, io non sono così non sono Robin Williams, quindi no non sono alla sua altezza ma sono qui per darvi invece un po' di informazioni un po' di notizie che troviamo sui vari giornali sia su Milano Today che su Repubblica ci sono un paio di articoli che riguardano i lockbox perché vi spiego cosa succede i lockbox, cosa sono i lockbox? queste piccole cassette di sicurezza per le chiavi sembrano dei lucchetti che trovate in giro appese praticamente ovunque nella nostra città ormai a cancelli, pali della luce cassette delle lettere che non esistono più anche quelle per spedire ma quelle poche ci sono, sono riempite sotto da lockbox che sono appunto queste cassette dove mettere le chiavi che sono ormai diventate il simbolo dell'affitto breve che i turisti usano appunto per accedere agli appartamenti prenotati su piattaforme come Airbnb, Booking ed altre le troviamo appunto attaccate ai pali della luce alle feriate panchine soprattutto in zone centrali o vicino alla metropolitana dove insomma ci sono tanti tanti appartamenti disponibili su Airbnb e company e ieri abbiamo parlato anche di come e se funziona ancora Airbnb domenica scorsa l'11 novembre andate in scena una protesta contro questo fenomeno con lo slogan questa città non è un albergo ricordate la mamma quando diceva questa casa non è un albergo ecco questa città non è un albergo alcuni comitati dei cittadini si sono mobilitati nella zona Navigli tappezzando di adesivi tutti i lockbox che hanno trovato per denunciarne l'uso secondo i manifestanti la proliferazione di affetti brevi sta riducendo l'offerta di case per i residenti ci sarebbero oltre 20.000 annunci attivi ma la maggior parte di questi appartamenti resta comunque vuota per lunghi periodi quindi attenzione che secondo me ok la protesta ok tutto quello che volete ma secondo me tutto questa cosa tornerà prima o poi a risistemarsi da sola vero è però che dico anche un altro dato un dato del sindacato dei piccoli proprietari di casa uscito qualche giorno fa sui giornali dice che il 52% degli affittuari per quel tipo di tipologia di appartamenti diciamo cioè i piccoli proprietari di casa sono gente che ha 3 massimo 2 massimo 3-4 appartamenti appunto proprietà che affitta beh il 52% degli affittuari di queste secondo questo sindacato sono morosi quindi capite che non è semplice non è per niente semplice da una parte io dico lo metto su Airbnb guadagno veloce facile ma non è così perché abbiamo visto che non è né veloce né facile né così a basso costo perché comunque le case bisogna tenere una certa modalità bisogna ristrutturarle i propri t-manager quelli che gestiscono tante case non prendono in gestione appartamenti vecchi anche solo di 30 anni non parliamo di 60-70 anni anche solo vecchi 30 anni anche solo magari senza arricondizionata insomma non è così semplice su Airbnb dall'altra parte il rischio vuol dire uno su due che non ti paghi l'affitto o che sia in ritardo e tutto ovviamente non è facile neanche quello è una questione secondo me che non va ridimensionata solo al problema degli affitti brevi è un problema proprio quello della casa ma soprattutto si ritorna sempre a bomba sul potere d'acquisto ma perché ce la si prende proprio con i lucchetti perché per molti sono il simbolo della professionalizzazione di questi affitti in mordi e fuggi il comune non è rimasto a guardare il consigliere Michele Albiani ha proposto una mozione per rimuovere i lockbox e presto sarà la giunta a decidere se inserire una nuova norma nel regolamento di polizia urbana per gestire questa situazione una stretta potrebbe quindi arrivare a breve con l'obiettivo di restituire alcuni spazi pubblici alla comunità insomma anche il comune si fa sentire effettivamente il problema della professionalizzazione dell'affitto mordi e fuggi esiste esiste e come e adesso Max Pezzali con discoteche abbandonate Max Pezzali discoteche abbandonate buon compleanno Max eh sì buon compleanno Max perché oggi è il compleanno di Max Pezzali 57 anni e insomma che bel compleanno diciamo che insomma è l'anno è l'anno di Max Pezzali è l'anno degli 8-8-3 è l'anno di quel mondo lì che in realtà allora diciamoci la verità è un ritorno che arriva da lontano io mi ricordo qualche anno fa una trasmissione condotta da Nicola Savino mi ricordo che era condotta a lui in tv dove c'era questo ritorno degli anni 90 anni 80 anni 90 questa voglia di raccontare questa voglia di revival ovviamente anche perché perché c'è poco da fare quelli che hanno vissuto di fine degli anni 80 inizio anni 90 adesso incominciano ad avere una certa età no buongiorno anch'io sono ho vissuto gli anni 90 quindi lo so bene e c'è un poco da fare quando arrivi a una certa età l'effetto nostalgia entra sotto pelle dentro di te e quindi c'è poco da fare se io faccio un bel concerto lo chiamo Forever Max e lo metto al forum da Sago o meglio ancora a San Siro ovviamente Max negli stadi due anni fa tre anni fa oramai ha fatto ha rimpito ovunque ma perché perché funziona così perché è il grande carocca della nostra vita le giacche con le spalline e il codino di Fiorello e le discoteche abbandonate sono poi alla fine appunto le discoteche abbandonate è il proseguo di la regina del celebrità se ci pensate in quell'altra si racconta appunto di questa discoteca celebrità dove c'è questa regina praticamente indiscussa e voluta amata e venerata da chiunque passa di lì poi in realtà il tempo passa e già in quella canzone cioè quando lui la vede che ha i figli e tutto dice sono contento di vedere che la vita va avanti bene poi però la vita va avanti anche con l'abbandono di discoteche ma perché siamo felici di raccontare una canzone così allegra perché comunque ci ricordiamo degli anni belli che furono la canzone dice anche le figate fatte nelle discoteche abbandonate cioè nel senso è quello anche se adesso sono mausolei sono rovine sono castelli ormai in disuso rimangono bellissimi ai nostri occhi meglio del Caesar Palace perché perché lì dentro abbiamo vissuto i migliori anni della nostra vita e si torna sempre lì perché insomma quello è sempre così quindi l'effetto nostalgia è indiscutibile e impossibile da non avere soprattutto appunto quando si arriva a questa modalità che è quella appunto del creare soprattutto un mood adesso perché poi il problema è quello l'effetto nostalgia è una cosa dall'altra parte poi ovviamente il commerciale il mondo della musica e non solo il mondo del trattenimento ci marcia sopra tantissimo e continua a cavalcare quest'onda che ormai va avanti da un po' e che quest'anno ha visto appunto l'apice credo con l'uscita della serie tv hanno ucciso l'amoragno perché davvero quella serie racconta uno spaccato di vita racconta riporta pensate Mauro Repetto è ritornato ormai praticamente in ogni trasmissione televisiva lui che aveva una vita tranquilla perché molti pensano ah se sei andato a fare il povero ah non avevo no lui aveva la sua bella vita con i suoi figli sua moglie a Parigi bello sereno felice lavora contento ma adesso è tornato diciamo anche lui sotto i riflettori alla luce della ribalta come si dice in questi casi sta di fatto che comunque appunto buon compleanno a Max Pezzali un gran bel compleanno appunto nell'anno che ha consacrato non ce n'era bisogno ma insomma ha riconsacrato il successo davvero di quel duo che erano gli 883 e di quel mondo di quel momento musicale che furono appunto inizi degli anni 90 eh il karaoke guardate il fiorello I'm in love iola hola hola I'm in love 7 e 26 minuti Crystal Radio pochi secondi ancora per darvi le ultime coordinate come ad esempio il nostro numero di Whatsapp 3317853555 pronto qui per leggere i vostri messaggi ma soprattutto devono essere pronti perché adesso andiamo ancora con una canzone poi ci sono un paio di consigli per gli acquisti e poi torniamo ancora qua perché insomma la diretta è lunga si va avanti come sempre fino alle 9 la mattina è questa la mattina che cerca di darvi la spinta qualche notizia ancora da leggere ma me la tengo per fra poco perché fra poco appunto legge la notizia e nel frattempo vi leggo anche il Whatsapp che è arrivato da Alberto che dice un saluto ai cristallini a te Fabio e alla redazione mi piace perché una volta salutavo la redazione ad persona adesso ha perso il conto di chi c'è chi non c'è anch'io un po' devo dire Alberto e quindi saluto alla redazione quindi un saluto a tutti quelli al di là del vetro diciamo così questa mattina faccio fatica a uscire dal letto ma devo farlo perché sono povero Alberto credo che questa cosa accomuni molti anzi fra poco vi leggo proprio quello perché vi leggo solo il titolo Milano sempre più nuovi poveri tra le coppie con figli non riescono a comprare libri di scuola o fare far sport ai ragazzi evitano le occasioni sociali per vergogna questo è il bellissimo incoraggiante titolo che troviamo sul Corriere della Sera Milano quindi insomma ne parliamo fra pochissimo subito dopo la prossima canzone che so già che canterete a squarciagola e se non lo fate siete brutte persone fatelo mi raccomando ma tanto lo so già che lo fate lo so benissimo che lo fate perché lui è Rino Gaetano con Gianna eh sì volevo solo partecipare alle feste volevo avere il potere di farle fallire eh Gepp Gepp è un potere che molti vorrebbero avere come si fa a sentire questa canzone a non pensare a quel momento topico fantastico appunto della grande bellezza in cui Gepp Gavardella confessa che insomma il potere era quello di far fallire queste feste beh che film l'avete visto la grande bellezza un film pazzesco del grande sorrentino che tra parchi di Dio credo essere oltretutto uno dei migliori registi italiani sì ma anche uno dei più simpatici nel senso che nella sua essere non simpatico palesemente guardandolo cioè non è che fa film comici quindi ci mancherebbe in realtà che dove sia una persona con un'ironia pazzesca lo testimoni al fatto che ogni 3x2 è a fare ogni 3x2 no ne ha fatti due però vabbè un paio di volte ha fatto dei video con i The Jackals e sono qualcosa di fantastico se vi capita guardate l'ultimo video che è uscito che inizia dicendo di voler fare la piadina challenge che io non sapevo neanche esistesse è una roba dove ci si dà delle piadinate in faccia da quanto ho capito beh bello pensate dove siamo arrivati beh con Paolo Sorrentino ci sono gli altri ragazzi dei The Jackals c'è Aurora Leone c'è Fabio Balsamo e Ciro Priello ma poi ovviamente da grande cineasta qual è c'è un plot twist e qualcosa cambia comunque le feste le feste sono fondamentali da sempre cosa avete fatto ieri sera molti di voi saranno sicuramente le feste perché ormai poi non è più una volta è al venerdì una volta si andava al venerdì venerdì discoteca ok venerdì sera la discoteca giovedì sera con la roba lì no ecco venerdì sera si andava in discoteca ormai adesso è praticamente delle sere ci sono feste serate ovunque non ci sono più discoteche ma ci sono sempre le feste serate questo è fantastico ma soprattutto il problema qual è il problema è riuscire però a trovare la festa giusta e o avere il potere come Jeff di rovinare queste feste oppure trovare le feste giuste ma come si fa a trovare la festa giusta non è facile ma soprattutto la cosa più difficile in assoluto è riuscire a entrare nel giro giusto è quello il problema e tu riesci a entrare nel giro giusto dai per favore fammi entrare nel giro giusto questo lo dice anche Bugo eh dai facciamolo entrare questo era Bugo nel giro giusto fammi entrare per favore grazie anche dei whatsapp che sono arrivati al 331 7853555 arriva un messaggio che dice buongiorno più Bugo per tutti e beh Bugo ragazzi è qualcosa di guardate che noi lo ricordiamo solo per il famoso dove è Bugo quella roba lì successa a Sanremo mi sono anche girato mentre lo facevo non riesci a dire dove è Bugo senza girarti e fare la scena come alla Morgan non riesci a dire dove è Bugo guardando davanti devi dire dove è Bugo e ti giri dietro così funziona così comunque noi ci ricordiamo per quello ma in realtà è un artista sì è un signor artista questo vabbè è uno dei pezzi miei preferiti e ormai 2008 2009 giù di lì insomma ormai alla sua età ma fa dei pezzi ragazzi che mollano cioè così lo dico proprio ve lo dico così comunque cosa volete che vi parlo di povertà o di Trenord eh sono cose sono belle notizie questa mattina mi viene da dire no allora vi leggevo appunto questo vi dicevo prima quando parlavamo di poveri giustamente anche Alberto diceva questa mattina faccio fatica a uscire di casa ma devo farlo lo stesso perché sono povero e in realtà noi appunto cerchiamo e ovviamente vogliamo cercare di scherzare un po' su tutto però è un tema molto molto serio e importante perché il fenomeno dei nuovi poveri sta crescendo in città e oltre a sappiamo il problema dei single che sono sempre più poveri perché davvero questa città è complicata ma anche le famiglie con figli si trovano in difficoltà economica secondo la ricerca di fondazione Progetto Arca molte coppie non riescono più a coprire le spese scolastiche o a far far sport ai propri ragazzi non solo in tanti evitano appunto le occasioni sociali spesso per vergogna e le famiglie si sentono ormai molto molto isolate a parlare nel presidente appunto della fondazione Progetto Arca Alberto Sinigaglia che denuncia una povertà che non si vede per le strade ma si infiltra nelle case nel lavoro soprattutto quando è precario o sottopagato perché parliamo di persone che lavorano di persone che hanno magari anche un lavoro non precario ma sottopagato oppure io aggiungo sempre non all'altezza delle spese di questa città per portare attenzione su questo tema Progetto Arca ha organizzato un flash mob in Piazza della Scala 200 persone sono sdraiate a terra avvolte in una coperta proprio a ricordare la situazione di chi vive in povertà la fondazione ricordiamo è una fondazione importantissima Milano attiva da più di 30 anni e in questo periodo ha accolto pensate oltre 1300 persone nelle sue strutture milanese dai dati che emerge emerge che appunto che una casa è il punto di partenza per molti per cercare poi di ricostruirsi la propria vita ma non basta serve anche un impiego e poi un impegno costante e anche investimenti da parte del comune o da parte comunque della società il comune di Milano e il terzo settore sono cresciuti e sono appunto riusciti a ottenere 21,4 milioni di fondi europei ma insomma bisogna comunque ancora chiederne altri e averne bisogno altri la ricerca di progetto ARCA fatta su 250 persone che fanno la spesa nei mercati solidali racconta che per molti la povertà è anche solitudine il 54% degli intervistati ha preso ha perso scusate il supporto degli amici e oltre un terzo delle famiglie evita appunto come dicevamo prima gli incontri sociali per vergogna le rinunce sono pesanti anche per quanto riguarda appunto i figli e i ragazzi che spesso non possono quindi fare attività sportiva o avere supporto per lo studio come ad esempio non si riescono a comprare libri o peggio ancora a volte anche cure mediche di base diventano spesso un problema c'è però un dato incoraggiante con cui appunto vi lascio la prossima canzone il 41% delle persone intervistate a Milano spera ancora però di poter migliorare presto la propria condizione una percentuale superiore al resto d'Italia insomma siamo più speranzosi a Milano speriamo che insomma questa speranza sia reale e che questo 41% di persone abbia quello che vuole perché insomma il problema grosso il rischio è che chi vive sperando muore ascoltando Artemis I like the way you kiss me 7 48 minuti crystal radio 331 78 53 555 ragazzi c'ho un malo di collo che non vi dico faccio fatica anche a girarmi per guardare il monitor spero che non si senta in radio si sente solo nel collo si sente nel collo ma non si sente in radio comunque ve l'ho detto prima solo buona notizia questa mattina l'altra ha a che fare con Trenord perché lo sapete ci sono i ritardi ci sono i problemi sulle linee di Trenord cosa e come risolvere questo problema cosa fare per risolvere questo problema tagliamo le corse è stato semplice questa è l'idea e sì perché in Lombardia Trenord prepara un piano di tagli alle corse dei treni regionali oltre 250 250 collegamenti potrebbero saltare o subire modifiche questo è quello che viene fuori appunto dal piano tra gli effetti si prevedono attesi più lunghe ovviamente per i pendolari e cambi di fermate quindi meno treni diretti con l'obiettivo di ridurre ritardi e cancellazioni ovviamente il partito democratico in regione si dice preoccupato sul nuovo assetto Trenord aveva previsto in realtà un potenziamento dei servizi fino al 2033 quindi com'è se vogliamo potenziare tagliamo questo chiede il partito democratico in regione alcuni esempi sui tagli ve li voglio dare ad esempio per la linea Alessandria-Milano si parla di spostare il capolinea di Porta-Genova a Rogoredo quindi si fermerebbe prima mentre corse ridotte sono previste anche sulla Lecco-Tirano e la Domodosso la Milano per le linee del passante ferroviario inoltre l'attesa in manchina potrebbe allungarsi e quindi un'ottima soluzione come qual è il passante ferroviario che io credo che sulla carta sia la soluzione ai problemi del mondo perché davvero in tutto il resto d'Europa per il resto del mondo situazioni come il passante ferroviario che sono quindi due esempi veloci le S-Ban a Berlino le RER a Parigi e la JR a Tokyo faccio tre esempi grossi ma c'è anche a New York non so come si chiama ma c'è anche a New York ad esempio ok quella sarebbe la soluzione e invece no a Milano la depotenziamo in modo da rendere ancora più lunghe le attese e far così che in realtà la gente soprattutto se vuole spostare da una parte all'altra città potrebbe usare il passante ma non ci pensa neanche e quindi da Dateo per andare a non lo so dove alla stazione centrale faccio un giro strano invece di fare con il passante adesso poi non passa Garibaldi ecco Dateo Garibaldi c'è va bene la decisione è attesa verso dicembre quando scatterà appunto l'orario invernale il nodo è il traffico sui binari ridurlo per migliorare la puntualità cioè ci sono troppi treni su questi binari il problema qual è che in altre parti del mondo si può fare un'altra cosa non ridurre i treni ma aumentare i binari qui da noi non è che non lo si può fare perché siamo in Italia ah ecco solita cosa italiana no non c'è lo spazio in alcune situazioni non c'è proprio lo spazio in alcune in altre in realtà si potrebbe benissimo mettere a dopo binario ci sono dei tratti che sono ancora a singolo binario in lunghi tratti insomma quello infatti è secondo me una delle stranezze diciamo per non dire altre parole di questo sistema comunque appunto il problema è il traffico sui binari bisogna ridurre quindi il traffico per migliorare la puntualità così almeno dicono da Trenord e Regione i pendolari ovviamente non ci stanno e denunciano che i problemi non sono tanto legati invece al numero dei treni quanto piuttosto alla scarsa manutenzione e ai ritardi nei ripristini da parte di RFI cioè sulle manutenzioni quindi dei binari cioè non è il numero di binari che è poco è che quei pochi binari che ci sono sono anche malconci questo sembrerebbe in più sembrerebbe che tutti questi treni che ci sono molti di questi treni siano anch'essi malconci e quindi il problema risulta essere molto più complesso come sempre infatti qui questa è una pezza che viene messa e vabbè cercheremo di viverci anche con questa pezza c'erano le giacche con le toppe sui gomiti ecco si parla di bellezza non è che era perché sotto c'era un buco cioè no forse sì ed era Johnny B. Good alle 8.07 questa mattina di giovedì 14 novembre e diamo ovviamente giovedì avete detto avete detto giovedì? eh sì ho detto giovedì e quindi il giovedì è teatro buongiorno Tamara Malleo buongiorno buongiorno Fabio buongiorno alle ascoltatrici gli ascoltatori di Cristal Radio e di Good Morning Milano come stai Tamara? come stai? come stai? come stai? molto bene ti ringrazio bene 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 no mal di collo però fa niente per il resto dai ti reminanza come diceva mia nonna comunque dove ci porti di bello quest'oggi Tamara? allora oggi iniziamo con uno spettacolo che ho visto proprio l'altra sera che mi è piaciuto moltissimo devo dire che si chiama Safari Pomodoro si trova al teatro Elfo Puccini fino all'8 dicembre quindi insomma è una lunga tenitura in scena c'è Michele Costabile la regia è di Elio De Capitani con Alessandro Frigerio e il test di Nicolo Sordo si parte da un'esperienza personale reale Michele Costabile attore ha sempre fatto un altro anche un altro lavoro e durante nell'estate del 2020 subito dopo appunto il covid è andato in una fabbrica dove si lavoravano i pomodori ed è entrato in un mondo che è un mondo molto particolare è un mondo che raccoglie delle umanità molto diverse fra loro che scelgono di fare questa esperienza anzi spesso non la scelgono di fare diciamo così ma fanno questa esperienza per diverse motivazioni lui ha raccontato questa sua esperienza a Nicolo Sordo e insieme hanno voluto creare uno spettacolo che potesse partire da questa esperienza per poi far sì che il teatro potesse portarci lontano in scena Michele Costabile porta una serie di personaggi chiaramente molto caratterizzanti diciamo così anche un po' surreali il linguaggio è molto a volte sarcastico molto duro proprio perché si vuole far entrare il pubblico all'interno di questo mondo che sembra così lontano dalle nostre quotidianità invece in realtà è molto vicino e ci porta in realtà ad una riflessione molto più ampia sull'umanità sul senso di quello che siamo all'interno di un sistema lavorativo di ciò che in qualche modo rappresentiamo all'interno di un sistema lavorativo in questo caso specifico di un mondo che ha all'interno una serie di problematiche molto complesse però devo dire che diciamo che loro la chiamano stand up tragedy proprio perché si parte da una stand up e quindi da una modalità molto brillante per poi invece scavare dentro un'umanità complessa e poi si arriva anche ad una diciamo così ad un evento molto forte emotivamente che porterà gli spettatori a fare delle riflessioni delle spettatrici a fare delle riflessioni che coinvolgeranno diciamo così il senso dell'umano più che poi il tema specifico quindi io lo consiglio vivamente Safari Pomodoro al Teatro dei Fopuccini quindi ci troviamo in Corso Buenos Aires fermata della Metropolitana Rossa o Porta Venezia o Lima e lo spettacolo inizia quasi sempre tra le sette e le otto quindi o sette sette e mezza otto quindi anche in un orario diciamo così che poi permette al pubblico di andare a cena o tornare a casa ad un orario diciamo così che può permettergli poi un riposo successivo quindi Safari Pomodoro consigliatissimo poi ci spostiamo perché ci spostiamo al Teatro Menotti che si trova in via Menotti ci troviamo in zona in piazza Risorgimento quindi Metropolitana Blu la nuova linea della metropolitana fermata tricolore o fermata da Teo è abbastanza vicino a entrambe le fermate della metropolitana o si può arrivare anche con alcuni autobus che passano da Piazza San Vadiga Teatro Menotti propone questa settimana due spettacoli di Ulderico Pesce che per la critica italiana teatrale è un esponente di spicco dei narratori teatrali contemporanei le scorse serate ha portato i 55 giorni del rapimento di Moro quindi i suoi sono sempre delle narrazioni storiche molto forti legate diventi molto conosciuti per il grande pubblico ma che forse per il pubblico più giovane non è nemmeno tanto conosciuto invece adesso da oggi fino a domenica porta in scena i sandali di Elisa Claps ha scelto di portare la storia dal punto di vista della voce del padre di Elisa Claps è un fatto di cronaca molto conosciuto ed è l'uccisione di una ragazza di 16 anni Elisa e che il cui corpo non è stato trovato per 17 anni per appunto una serie di situazioni che poi sono venute alla luce attraverso delle indagini e lui però vuole raccontare il dolore di un padre la perdita di un padre e soprattutto il dolore di un padre non avendo la possibilità di piangere il corpo della propria figlia e la ricerca della verità senza mai fermarsi appunto il Derico Pesce è un narratore nell'ambito del mondo teatrale quindi lui prende la storia e cerca di affondare nella storia con grande rispetto attraverso le parole che il teatro permette è una storia molto delicata è una storia emotivamente molto forte ed è una storia vera quindi bisogna avere rispetto per quello che si sta raccontando e per le vite delle persone che sono ancora oggi presenti e che continuano a vivere quel dolore. E lui riesce sempre a creare, costruisce sempre una storia molto rispettosa di quelli che sono le persone che vivono ancora questo dolore, ma portando avanti appunto delle storie vere che possono essere quindi condivise dal pubblico. Ci troviamo al Teatro Menotti fino a domenica 17, quindi da stasera fino a domenica 17, Metropolitana Blu, diciamo così per intendersi come Metropolitana. Per capire meglio. E Fermata Tricolore o Dateo. Perfetto. Poi, per aprire questo fine settimana che a Milano è caratterizzato da Book City e quindi insomma da una serie di eventi incredibili, incontri con autori, autrici, diciamo che il programma è molto ricco. Io però vi consiglio un appuntamento al Teatro Gerolamo che si trova in Piazza Beccaria, quindi in pieno centro, fermata a Metropolitana Duomo, cinque minuti a piedi arrivate in Piazza Beccaria, e c'è il Teatro Gerolamo, un teatro bellissimo peraltro, dove ci sono Mattia Fabris e Arianna Scommegna, che sono due attori bravissimi, che portano un reading di D13, che è un testo di Carrère, che praticamente lui, quando Parigi nel 2015 è stata sconvolta da una serie di attentati terroristici tra Bataclan e le Stade de France e alcuni distrò che causarono 130 morti, lui raccoglie praticamente per dieci mesi, giorno dopo giorno, il processo ai complici e l'unico sopravvissuto fra gli autori di questa strage. e i suoi racconti, questo è uno di questi, ma in generale nei suoi romanzi c'è questa attenzione, questa rielaborazione poi di articoli reali, testimonianze dei protagonisti di questi terribili eventi, attraverso la sua voce, che è una voce caratterizzante, nel senso che è una voce che si riconosce quella di Carrère, e in cui sicuramente la vita irrompe nelle carte, diciamo così, e quindi in una narrazione fredda, fatta di numeri, fatta di dati, lui irrompe con la vita. e chiaramente i due interpreti, Mattia Fabris e Arianna Scommegna, sono i due interpreti che sicuramente ci entreranno, e ci, diciamo così, ci strapperanno dal nostro distacco emotivo, per farci entrare invece in questi eventi pienamente, e mantenendo quel distacco che Carrère ha, quindi non seguendo pregiudizio, soluzioni, preconcetti, e invece concentrandosi sul lato umano. E' chiaramente un reading, quindi chiaramente una lettura del testo di Carrère, ma è un reading teatrale, interpretato magistralmente da Mattia Fabris e Arianna Scommegna. B13, Teatro Gerolamo, scusate non vi ho detto, questo weekend dicevi, quando, quindi questo è importante, mi sembra che sia, scusate, venerdì 15, e stavamo 16 alle 20, e domenica 17 alle ore 17. Teatro Gerolamo, andate a vedere sul Teatro Gerolamo, che sicuramente troverete tutte le indicazioni, in Duomo, diciamo, praticamente dietro Duomo, grazie mille Tamara, beh, interessante, anche perché appunto, qui siamo sul confine appunto, tra Book City e invece il teatro, quindi insomma, sempre perfette le tue indicazioni. Tamara, grazie mille, buon weekend anche a te, buon Book City, magari perché so già che andrei a vedere cose, sono sicurissimo. Un pochino sì, andrò a vedere lì. Giusto, sono sicurissimo, e poi ci racconterai cosa avrei visto di bello. Grazie mille Tamara, buona giornata, a presto, a presto, grazie mille Tamara Malleo, noi continuiamo con un po' di musica, poi torniamo perché vedo già gli ospiti al di là del vetro, adesso Cesare Cremonini, ora che non ho più te, ecco, vedi io che non ho più Tamara, adesso è andata, dai la risentiamo un po' settimana prossima, tranquilli. Cesare Cremonini, ora che non ho più te, 8 e 22 minuti, Crystal Radio, e sono ben contento di dare il benvenuto a una graditissima ospite che è ritornata a trovarci quest'oggi anche in compagnia, poi capiamo bene di chi, parliamo di Alessia Spina, buongiorno Alessia, Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. E in collegamento con noi Joe Blonde, buongiorno Joe. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'offerta di essere qua. Ma grazie a voi, grazie a voi, grazie a lei di essere tornata qui con noi, il tabù dell'amore. Oggi parliamo ancora di questo, io lo chiamo libro, ma non è solo un libro, non ho ancora tratto l'aggettivo giusto per definirlo, lo chiedo a Joe magari, lo chiedo a Joe, se lo dici tu. Posso rispondere io? Posso rispondere, Alessia, il libro è riduttivo. Sì, perché in realtà è un progetto, un progetto che unisce creatività scientifica e creatività artistica e è una produzione di immagini scattate con fotocamera analogica, testi prodotti dalle interviste che abbiamo effettuato su 50 partecipanti e disegni che i partecipanti hanno effettuato. Hanno fatto loro proprio durante e dopo le vostre domande, giusto? Giusto. E come nasce invece questo connubio con Joe? Joe, come nasce appunto questo vostro lavorare insieme e lavorare a questo progetto? Ma guarda Fabio, ci conosciamo da diversi lunghi anni, credo sia stata un'esigenza profonda di sondare questo problema, direi anche quasi sociale adesso di educare alle relazioni, no? Alessia, poi mi dici tu se è vero o meno, cioè di aiutare a educare alle relazioni un po' noi tutti che può aiutare a rendere ognuno di noi consapevoli di chi siamo, di cosa desideriamo, delle nostre emozioni senza fuggirne e di come possiamo interagire un po' insieme agli altri con il resto del mondo senza farci troppo male e farne agli altri, che è un problema un po' di tutti i giorni soprattutto se ne sente parlare e quindi diciamo Ma perché secondo voi si fugge da queste emozioni? Anzi, secondo voi alla fine so che l'avete letto, ce l'avete capito tra le righe del vostro progetto, perché si tende a fuggire dalle proprie emozioni? Allora, mi permetto di rispondere io, intanto grazie Joe, noi ci siamo conosciute durante un percorso fotografico molto intenso qualche anno fa e ci tenevo a fare questa piccola aggiunta per arrivare alla tua domanda perché si fugge dalle emozioni? Perché diciamo che le emozioni ci espongono al nostro essere vulnerabile che facciamo molta fatica ad accogliere ma in realtà facciamo un grande errore di valutazione perché le emozioni in realtà ci aiutano a interpretare la realtà, sono dei dispositivi necessari per affrontare il quotidiano e per conoscerci meglio e c'è anche questa difficoltà dell'entrare veramente in relazione con noi stessi, con la nostra parte autentica mi verrebbe da dire e di conseguenza poi entrare in relazione con gli altri perché è chiaro che quando entriamo in relazione con l'altro dovremmo teoricamente entrare con la parte autentica di noi e dell'altro per stare veramente in relazione altrimenti mettiamo in gioco il nostro personaggio le nostre maschere ma in realtà non ci relazioniamo veramente le maschere quanto carnevale nelle nostre vite effettivamente ma è bello il nome anche del vostro del vostro progetto perché appunto il progetto è il tabù dell'amore parole che difficilmente si trovano insieme spesso viene dire tabù il primo tabù che viene in mente a tutti è quello del sesso ad esempio amore che magari a volte è una realtà non si sa è una conseguenza del sesso o viene prima questo non lo so dipende dalle persone a volte però nel senso è comunque tabù e amore non si era mai pensato di mettere insieme invece voi partendo anche voi credo proprio dall'idea del tabù del sesso ci si domanda com'è che adesso invece esiste il tabù dell'amore sì infatti con Joe la riflessione è stata proprio questa ovvero il tabù del sesso è una proibizione culturale morale ben riconosciuta del tabù dell'amore non se ne parla però è come se ci fosse un grande implicito sul tema che emerge da quello che è possibile osservare nella difficoltà di esprimere i propri sentimenti di entrare veramente in relazione con l'altro ad oggi facciamo una grande fatica proprio perché siamo spaccati tra paura e desiderio del legame che è un po' il prodotto della nostra società liquida come direbbe Bauman mamma mia avete capito che ospiti vi porto anche Bauman mi cita ma soprattutto invece voglio capire anche un'altra cosa qui parliamo anche di fotografia com'è fotografare viviamo in un mondo dove in realtà pensiamo che la fotografia faccia parte della nostra vita perché con un iphone con un qualsiasi telefonino ci facciamo un selfie siamo a posto ma lì siamo noi a decidere cosa mostrare come mostrarlo quando invece c'è un'altra persona dentro la macchina fotografica lì è un po' diverso quando le foto devono far vedere il nostro intimo lì è un po' diverso com'è stata invece questa parte chiedo a entrambe chi vuole dirmelo appunto com'è stata questa parte invece di creazione del contenuto che questa volta non è il contenuto come diciamo tutti in un punto il content creator ma è proprio un contenuto artistico a tutti gli effetti Joe vuoi dire qualcosa? No inizia pur tu credo che sia stata poi Alessia a donare la macchina fotografica no? Poi i soggetti intervistati ha fatto un lavoro bellissimo perché tu hai donato giusto infatti con me con i soggetti intervistati sì sì allora innanzitutto dico che fotografare oggi è un po' un atto compulsivo che porta poco a pensare al contenuto di quello che scattiamo per via di questa bulimia che abbiamo nello scatto digitale è il motivo per cui noi abbiamo scelto la fotocamera analogica che porta invece a una riflessività diversa proprio perché la fotocamera analogica ci permette un tot numero di scatti limitato e dobbiamo quindi pensare di più a quello che vogliamo scattare e questa è la prima parte la seconda parte che è quella che ha accennato Joe è che io effettivamente ho sviluppato anche una fase asincrona con i partecipanti che ho intervistato consegnandogli una fotocamera usa e getta analogica e chiedendogli di effettuare due scatti sui contenuti che erano emessi durante l'intervista postumi entro 48 ore dall'intervista e quindi loro avevano un po' questo ed era anche una fotocamera analogica per anche dargli un limite non potevano fare scatti a caso avevano un'indicazione ben chiara e soltanto due scatti a disposizione senza vedere come vengono esatto poi mi viene da dire che comunque è una sorta di viversi l'emozione ritornando alla questione delle emozioni con lo scatto analogico vivi il momento vivi l'emozione poi lascia andare lo rivedi quando vai a sviluppare scansionare il rullino e poi in questo caso nella carta stampata se lo vivranno chi acquisterà questo meraviglioso progetto e infatti perché è bravissima mi hai dato proprio l'astit perché adesso fra poco andiamo in pubblicità ma facciamolo noi un piccolo passo piccolo spazio pubblicità come diceva Vasco Rossi spieghiamo come e si può fare ad esempio ad avere questo volume sì allora noi attualmente stiamo facendo una campagna di crowdfunding attraverso una piattaforma editoriale crowdbooks che permette alle persone interessate di acquistare una copia in preordine del libro e facendo questo acquisto possono contribuire alla realizzazione del libro stesso ovvero coprendo le spese di pubblicazione se andrà in porto come ci auguriamo entro fine dicembre riceveranno la copia cartacea del libro se non andrà in porto ritornerà sul conto che hanno utilizzato l'importo ma non succederà perché anzi dovremmo stamparne ancora di più sicuramente ma ricordiamo bene com'è la piattaforma come si fa dai ripetemelo bene allora poi magari inseriamo anche un link però la piattaforma è crowdbooks il tabù dell'amore il libro una copia costa 25 euro e tra l'altro un libro abbastanza copioso nel senso che sono quasi 300 pagine tra disegni immagini e testi quindi direi che vale la pena è bello questo perché è un libro fotografico sì è un libro di testi sì è un libro di disegni sì è tutto è tutto è un progetto scientifico sì ecco e adesso poi dopo la prossima canzone troveremo proprio su questo il progetto scientifico e adesso Gianna Nannini bello è impossibile Gianna Nannini bello è impossibile come bello è impossibile è il libro che dovete per forza prendere il tabù dell'amore anzi bello impossibile interessante fatto bene anche ci aggiungiamo e come diciamo anche progetto scientifico molto molto ben fatto e strutturato proprio dopo entriamo bene perché mi piace con la parte di mi piace mi piace tanto andare a vedere come l'avete realizzato ma il tabù dell'amore appunto è risulta essere quindi un tabù questo amore questi sentimenti che è difficile da gestire soprattutto è difficile gestire quando si parla anche di affettività che poi viene magari può sfociare anche in qualcosa di un po' più pericoloso la non capacità no? sì grazie Fabio perché questo è un mese importante da questo punto di vista novembre appunto il mese che ha una particolare attenzione sulla violenza di genere e di fatti il nostro lavoro può anche essere letto in questo senso ovvero una buona educazione emotivo-affettiva può prevenire anzi previene comportamenti e atteggiamenti violenti quindi mi fa molto piacere stressare questo aspetto perché nel momento in cui noi non riusciamo ad accogliere le nostre emozioni a rinominarle e a elaborarle mi verrebbe da dire proprio digerirle per passare con termini che può aiutare a comprendere il processo rischiamo di agirle e quindi non c'è una mediazione a livello di pensiero e l'emozione spesso viene trasformata in agito proprio perché non c'è questo passaggio che permette alla persona di comprenderle e diventa un agito che può sfociare in diversi modi chiaramente e quindi è importante sì scusami no io volevo sapere appunto anche Joe cosa ne pensava su questo tema e anche capire un po' che cosa hai in realtà volevo sapere anche le vostre emozioni che avete provato durante la realizzazione di questo progetto mi aggiungo ad Ale ad Alessia Alessi insomma che giustamente ha detto cose sacre che infatti ho fatto un lavoro anche su di me grazie proprio anche a questo a questo libro a questo progetto che è durato anni perché cercare di affrontare tutti noi io in primi espulsioni emozioni sentimenti che a volte possono essere non so come dire travolgenti a cui a volte io stessa non sapevo dare un nome può speciare appunto in rabbia e violenza e la violenza nelle relazioni intime costituisce secondo me ora come ora un problema psicologico sociale piuttosto complesso che può avere anche degli impatti significativi sia nella salute individuale sia nella società in generale ed è proprio quello che stava dicendo Alessia dare un nome a quello che sentiamo farci anche aiutare noi in alcuni casi con una figura esterna per fare questo ecco bene quindi insomma è servito anche a voi da quanto ho capito assolutamente ogni lavoro del genere che coinvolge veramente tutte le parti di una persona è anche un lavoro personale cioè un lavoro di crescita personale lo faccio io personalmente lo faccio per quello che fatica perché se non mi metto in gioco io come faccio a coinvolgere gli altri quindi deve esserci assolutamente un coinvolgimento attivo partecipativo chiarissimo chiarissimo allora Gio noi ti ringraziamo di essere qui con noi ti lasciamo al tuo viaggio grazie a voi grazie Gio andiamo avanti però con Alessia a parlare quindi poi dopo puoi ritrovare tutto sul nostro sito così puoi dire Alessia sai tutto giusto o no la puoi controllare anche da remoto va bene perfetto perfetto buona giornata e buon divertimento grazie mille grazie buona giornata Alessia tu invece rimani qui perché andiamo avanti a parlare del tabù dell'amore subito dopo questo piccolo stacco pubblicitario Gaia con Tokyo e ci fa brillare ci fa pensare tutto questo anche il tabù dell'amore il libro appunto di cui stiamo parlando il progetto anzi viene da dire ancora di più il progetto scientifico poi vi che vedrà la luce appunto in un libro finale di Alessia Spina e Joe Blond progetto scientifico perché appunto tutto ricordiamo parte da una base scientifica sì corretto Fabio abbiamo condotto delle interviste semistrutturate su 50 partecipanti di età diverse provenienza diversa quindi una popolazione molto varia per indagare per indagare quelle che erano rappresentazioni e atteggiamenti riguardo a sesso e amore indagare così perché è interessante quello perché potete indagare le emozioni non espresse qualcuno che esprime le emozioni mai l'avete trovato anche immagino assolutamente sì c'è un po' di speranza in questo mondo assolutamente sì sia emozioni che sentimenti però c'è una difficoltà tendenzialmente nell'esprimerli perché cosa è successo poi ti chiedo Shakespeareana domanda ma è già cioè il non esprimere emozioni è essa stessa un'emozione quasi Shakespeareana come domanda o Barzuliana dipende allora il fatto di non esprimere emozioni può dar la parvenza che la persona non provi emozioni però in realtà questa è un po' una distorsione perché la persona poi dipende chiaramente dal fenotipo non possiamo generalizzare però spesso avviene che la persona in realtà le prova e quindi mi farebbe da dire somatizza per passare a un termine fruibile e si come dire causa una serie di manifestazioni a livello somatico perché come dicevo anche l'ultima volta il fatto di non esprimere emozioni può avere anche delle conseguenze perché qui il tema appunto non è non provarle le emozioni non esprimerle esatto cioè di base mi sembra che sia quasi impossibile non provare emozioni ci sono ci sono quelli c'è anche comunque un disturbo una patologia che anche nel disturbo stress post-traumatico è possibile avere una fase in cui non si provano delle emozioni per difesa è come se si fosse anestetizzati però ecco il problema più comune che mi verrebbe da dire a livello psicosociale è proprio che ha anche una base culturale è proprio quello di non esprimere le emozioni perché addirittura ti insegnano che non sta bene è base culturale hai detto appunto ti insegnano che sì perché per esempio anche nella cultura del maschio alfa visto che prima abbiamo parlato di violenza di genere il fatto che l'uomo sicuro di sé non deve mai mostrarsi fragile non deve mai mostrare di provare emozioni non deve chiedere mai ma se non chiede come fa a sapere e soprattutto se non chiede poi agisce quindi questa grossa corazza che mi verrebbe da dire che era una grossa stereotipia culturale sul maschio vigoroso che non deve provare emozioni è un chiaro esempio di quello che ti stavo dicendo e e che qualcosa non funziona viene anche nel momento in cui per far capire com'è culturalmente e socialmente il maschio dobbiamo citare una pubblicità appunto l'uomo non deve chiedere mai cioè questo ci fa capire anche un po' da dove arriva esatto è proprio questo quindi calza perfettamente però questo crea poi una serie di problematiche anche perché spesso poi questi uomini hanno celano una grossa fragilità dietro questa corazza invincibile ma questa è quella che a volte appunto viene definita quella famosa mascolita tossica cioè che è tossica sia in un lato che nell'altro è questo no è altro chiedo all'esperta appunto nel senso che si c'entra assolutamente anche perché è un po' quella propensione che abbiamo nel irrigidire il confine nel senso che il maschio deve essere maschio 100% non può avere delle componenti femminili nel momento in cui si sente vulnerabile e si sente diciamo quella parte femminile che emerge perché culturalmente quella è stata definita parte femminile ma non è assolutamente nel senso tutti siamo dotati da parte emotiva da parte un po' più cognitiva razionale cioè dovremmo integrare queste due parti e evitare di scinderle perché e questo rientra poi nell'atteggiamento del maschio azzurro femmina rosa allora le categorie ci servono per interpretare la realtà ma se diventano si rigidiscono diventano delle barriere grandissime che non ci permettono di finché l'etichetta può anche funzionare quando poi diventa gabbia è un altro problema bravissimo hai colto il punto perché l'etichetta va bene nel senso che aiuta anche a incasellare la realtà mi verrebbe da dire noi abbiamo bisogno di categorizzare vado in una libreria io voglio un libro giallo vado nella categoria gialla che un giallo non può essere anche un altro genere letterario ecco e questo è il senso non dobbiamo rigidirci altrimenti rischiamo di non riuscire a riconoscere l'altro da sé che tendenzialmente l'altro da sé è anche una grande proiezione di quello che non riusciamo ad accettare di noi e quindi definiamo nemico una persona adesso sto veramente portando il concetto agli estremi però anche nella discriminazione funziona così noi definiamo un nemico una persona che magari ha delle caratteristiche che non sono nostre e magari poi veniamo a scoprire quelle caratteristiche che erano nostre e le abbiamo proiettate perché le abbiamo scisse perché non volevamo accettarle e quindi fuori da noi non sono dentro di noi e quindi non possono in qualche modo intaccare l'immagine che abbiamo di noi ecco e se tutto questo vi interessa sappiate che c'è un bel volume che potete su crowdbook aiutare a vedere la luce e soprattutto ricevere a casa giusto? giusto il tabù dell'amore lo ricordiamo è possibile supportare il progetto acquistando una copia in preordine e contribuendo così alla pubblicazione dello stesso che dovrebbe avvenire entro fine dicembre entro fine dicembre più o meno e la cosa interessante di questo progetto diciamo che appunto come avete sentito è un progetto scientifico e che base scientifica appunto adesso tu studi da anni tutto questo mondo e quindi insomma sai bene di cosa stiamo parlando è un progetto anche artistico anche artistico perché ci sono le foto ci sono i disegni e alcune di questi disegni sono fatte proprio dagli stessi intervistati questa cosa che in realtà loro le hanno vissute come le emozioni in questo processo perché durante l'intervista e poi dopo e poi adesso arriveranno una volta visto il pronto finale ed è bello perché comunque c'è sempre una rilettura del contenuto e oltretutto rivedere il tutto in una situazione post ma li ha aiutati anche ad uscire un po' dalla zona di comfort perché loro si sono messi in gioco nel momento in cui hanno dovuto effettuare due scatti così in analogico entro due giorni raccontando delle cose che non erano emerse durante l'intervista loro sono usciti dalla loro zona di comfort e quindi questa esperienza è anche servita per una crescita personale molti ci hanno anche ringraziato per quello che abbiamo innescato mi verrebbe da dire noi per mettere in gioco la nostra creatività artistica nel mio caso scientifica anche però anche quella artistica abbiamo bisogno di uscire dalle nostre come dire gabbie sicure perché anche qui tu hai l'etichetta della scienziata in un certo senso ma tu dici sono anche per la parte artistica quindi metto anche l'etichetta della parte artistica quindi esco appunto dalla gabbia anche lì certo perché è esattamente quello che stavamo dicendo prima sulle etichette e sulle categorie che non devono essere troppo rigide troppo confinate ragazzi dobbiamo essere anche liberi di reinventarci e di evolverci perché se rimaniamo sempre dentro quell'angolo di protezione allora non evolviamo non c'è possibilità di cambiamento bisogna dire questa zona di comfort che ormai tutti sbandierano cioè che palle posso dirlo crea un sacco di insoddisfazione e poi la zona di comfort perché noi non siamo soddisfatti solo con la sicurezza noi siamo soddisfatti se possiamo vincere la sicurezza metterci in gioco e essere in grado di risolvere situazioni nuove che ci aggiungono all'esperienza che ci arricchiscono ecco sappiate che da domani faccio la trasmissione tutta la trasmissione cantando esco nella mia zona di comfort peggio per voi io mi sentirò bene così ha detto la dottoressa quindi io non c'entro niente non vedo l'ora di ascoltarti Fabio Alessia siamo quasi in chiusura diamo proprio veramente le ultime le ultime indicazioni e poi dobbiamo però salutarci ok allora se vogliamo esplorare questo progetto e questa lettura dell'amore in un senso alternativo che non è quello a cui siamo abituati solitamente crowdbooks il tabù dell'amore il tabù dell'amore crowdbooks e adesso sigla rimani qui per i suoi finali Alessia 8 e 55 minuti di oggi giovedì 14 novembre siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano e grazie ancora davvero Alessia il tabù dell'amore grazie mille Alessia Spina io ti voglio ancora qua però sappilo va bene parliamone bene bene l'ha promesso anche a voi lo giungo io in realtà a questa parte qui dopo di noi alle 9.05 senti questa con Ambrogio Curti la grande musica internazionale raccontata e anche nazionale raccontata dalla bravissima competentissima e soprattutto suave sexy voce di Ambrogio Curti dopo di noi qui a senti questa 9.05 dopo il giornale radio se invece volete riascoltare tutto quello che è successo qui in trasmissione con noi goodmorning.milano.it anche la tua intervista Alessia sarà appunto pronta anche su Spotify lo sai anche su Apple Podcast dove vuoi che la mettiamo mettiamo anche su Pinterest la mettiamo ovunque la mettiamo su Twitch la trovate su Youtube e su Facebook anche le voci che avete sentito questa mattina sono state quelle di Tamara Malleo Alessia Spina e Gio Blond qui al microfono Fabio Ranfi in regia Ginevra in redazione producer Beatrice grazie mille a tutti grazie ancora Alessia grazie Fabio grazie a tutti buona giornata domani ciao